38 stranieri ospitati in tre appartamenti in condizioni igieniche e sanitarie deplorevoli con le stanze prive di mobili e materassi buttati sul nudo pavimento. Per non parlare dell'assenza almeno in un caso della corrente elettrica. E' questo il risultato di un blitz messo a segno dai carabinieri della stazione di Rosà in collaborazione con la polizia locale in tre diversi alloggi situati nel territorio comunale. Nel primo appartamento di circa 100 metri quadrati sono stati identificati 15 extra comunitari di cui 7 sprovvisti della dichiarazione di ospitalità. Chiunque conceda qualsiasi titolo ospitalità a stranieri è tenuto infatti a darne comunicazione scritta entro due giorni al sindaco. Nel secondo appartamento c'erano 8 extra comunitari di cui 7 privi della medesima dichiarazione e nel terzo altri 15 cittadini stranieri di cui 14 non segnalati alle autorità. Tutti e tre gli alloggi erano condotti in locazione da cittadini cinesi. Qui sono state appiopate 28 sanzioni per un totale di quasi 9.000 euro. I 38 cinesi controllati sono tutti in possesso di regolare permesso di soggiorno e lavorano nei vari ristoranti della zona.